Adesso, perché aggiungi il sapone, in questo è una via di mezzo, il cemento, per me è un vino a frutta, serve bene il sapone, senza confessi. E' un pezzo, 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 un pezzo. No, questi sono chiamati, i chiamati non richiedono solamente una zona, che ci sta, i permessi vengono a provare, vengono a...